Allora, finalmente ritorno con filmati nuovi, anche se tre giorni fa ho pubblicato l'ultimo filmato, sì. E in questo filmato volevo farvi vedere chi ho conosciuto e chi ho incontrato ieri. Allora, vi faccio vedere solamente una cosa, ma sicuramente se la seguite come me, la conoscete senz'altro. Ecco qui il libro. Già da questo qui dovreste aver capito chi ho incontrato. Sì, proprio lei. Kiss and Makeup01, la nostra famosissima e amatissima Nicole, la youtuber di trucco. È stato un incontro veramente molto piacevole, è una persona deliziosa e stupenda. E io mi sono fatta autografare il libro, eccolo qui, il suo autografo sacro, ve lo faccio vedere mai. E in questo filmato voglio farvi vedere tutti quanti i momenti che ho vissuto con lei ieri, farvi vedere alcuni filmati che ho editato insieme sempre a Nicole e farvi vedere tutte le emozioni che ho vissuto appunto in questa giornata straordinaria. Questa era una piccola introduzione e vi mando un grosso bacio e buona visione per il resto del filmato. Questa è una piccola introduzione e vi mando un grosso bacio e buona visione per il resto del filmato. Questa è una piccola introduzione e vi mando un grosso bacio e buona visione per il resto del filmato. Questa è una piccola introduzione e vi mando un grosso bacio e buona visione per il resto del filmato. Questa è una piccola introduzione e buona visione per il resto del filmato. Questa è una piccola introduzione e buona visione per il resto del filmato. Questa è una piccola introduzione e buona visione per la visione per il resto del filmato. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti